Buongiorno a tutti, ai colleghi e agli studenti che anche stamattina vedo numerosi in quest'Aula. Cominciamo la seconda sessione del nostro convegno dedicato a processo e informazione. Nella giornata di ieri, il 2009, sindacale e interpretazione della Convenzione Europea fornita dalla Corte di Strasburgo. La cui funzione è stata attribuita dal trattato e quindi dagli Stati membri senza porre alcuna riserva. Questo significa che qualora il giudice nazionale non sia convinto della correttezza di questa interpretazione, non può sceglierne un'altra. Ha soltanto la possibilità, se quell'interpretazione della Convenzione si ritiene comporti una violazione della Costituzione nazionale, ma soltanto in questi casi, direi, estremi, sollevare un problema di costituzionalità riferito alla legge di esecuzione della Convenzione. Quindi deve intendere il giudice nazionale, la Convenzione e la giurisprudenza della Corte come un insieme coordinato. La fonte scritta si applica insieme al corpo giurisprudenziale che lo accompagna. Evidentemente si tratta di un sistema tutt'altro che semplice, perché per definizione le sentenze della Corte Europea di diritti dell'uomo sono sentenze che definiscono un caso singolo. Quindi comporta un esercizio di ricostruzione di principi generali, che è tutt'altro che semplice, e che però viene facilitato dal secondo elemento che prima citavo, che accompagna la lettura e l'applicazione della Convenzione Europea. Un elemento meno preso in considerazione, anche perché apparentemente meno invasivo dal punto di vista dell'applicazione delle norme, vale a dire i documenti che accompagnano nel contesto europeo di diritti dell'uomo l'interpretazione della Convenzione. Mi riferisco in particolare alle raccomandazioni e alle risoluzioni adottate dagli organi politici del Consiglio d'Europa. Sia il Comitato dei Ministri che l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa si vedono attribuiti dal trattato istitutivo di questa organizzazione internazionale un ruolo di rivolgere agli stati delle raccomandazioni. Raccomandazioni che in quanto tali non sono vincolanti, ma che per regola generale relativa all'interpretazione dei trattati, mi riferisco all'articolo 31 della Convenzione di Vienna del 69, debbano essere prese in considerazione dall'interprete per chiarire la portata delle disposizioni convenzionali. Abbiamo in questo contesto dei documenti particolarmente rilevanti e che è il caso di citare immediatamente, perché questo mi consente di completare il quadro normativo relativo ai rapporti del processo di informazione. La prima è la raccomandazione numero 13 del 2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla diffusione di informazioni attraverso i mezzi di informazione con riferimento ai procedimenti penali. La lettura di questo documento è particolarmente istruttiva, sia per i principi che contiene, sia per una visione generale dei rapporti tra questi diritti tutti presi in considerazione dal testo convenzionale. Si tratta, a ben vedere, di poco più che un restatement della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, però ordinata per i principi. Torneremo sul testo di questa raccomandazione tra un po', ma a questo volevo anche aggiungere un altro documento di uguale rilevanza, che è la raccomandazione numero 7 del 2000, sempre del Comitato dei Ministri, sul diritto dei giornalisti a non rivelare le fonti di informazione. Anche qui abbiamo sostanzialmente una codificazione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma anche qui l'esigenza di sistematicità e quindi di accesso più semplice ai principi della giurisprudenza viene soddisfatta attraverso una lista di principi che gli Stati membri sono in qualche modo tenuti a rispettare qualora appunto si tratti di disciplinare attraverso qualsiasi tipo di attività, tipo legislativo ma anche di tipo giudiziario evidentemente, il delicatissimo problema della divulgazione delle fonti dei giornalisti. Quindi volevo segnalare questi due commenti anche perché si parla poco di queste raccomandazioni. E invece bisogna sempre contestualizzare, la contestualizzazione di questa raccomandazione deve essere fatta dalla lettura delle regole generali sull'interpretazione dei trattati. Regole generali che vogliono che l'interprete applichi i trattati anche alla luce della prassi successiva degli Stati membri. E la prassi successiva dei Stati membri può realizzarsi non soltanto con accordi successivi evidentemente, ma anche con prese di posizioni di per sé non vincolanti, ma espressamente riferiti a un testo convenzionale come è il nostro caso e che dimostrano la volontà degli Stati membri, cioè di coloro che controllano l'applicazione dei trattati, i padroni dei trattati, sul modo in cui questi debbano essere applicati nei loro ordinamenti. Il Comitato dei Ministri è notoriamente composto da rappresentanti dei Stati membri. Quindi si può senz'altro riferire questa prassi all'intenzione di dare un'interpretazione più corretta, più precisa, più contestuale al testo della Convenzione. Quindi queste sono le fonti del sistema. La Convenzione europea, gli articoli 6, 8 e 10, la giurisprudenza della Corte europea di diritti dell'uomo, stiamo parlando di qualche, almeno di qualche decina di sentenze, quindi ovviamente non c'è né il tempo né la possibilità oggi di esporle se non a grandi linee. E poi, insisto, le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Quali sono i principi che possono, a grandi linee ripeto, rinvenirsi dalla giurisprudenza? Ragioniamo in termini di disposizioni invocate. È un ragionamento che io stesso denuncio come insufficiente, perché di per sé non è significativo. Il fatto che, dinanzi alla Corte europea di diritti dell'uomo, giunga una causa relativa all'applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 10, non significa necessariamente che stiamo parlando di questioni diverse. In sostanza, possiamo parlare delle stesse questioni portate all'attenzione della Corte, in base a articoli diversi del Trattato, in ragione del soggetto che si lamenta. Se il soggetto che si lamenta è un editore, un giornalista, molto probabilmente il suo punto di riferimento nel testo convenzionale sarà l'articolo 10, cioè il principio che riconosce e tutela la libertà di espressione. Libertà di informare e libertà di essere informati. Se invece a lamentarsi è un imputato, un soggetto che ritiene che ci sia stata troppa informazione sul suo processo, oppure che la sua riservatezza sia stata violata dalle notizie divulgate nel corso di un processo, evidentemente farà riferimento agli articoli 6 sull'equità del processo o l'articolo 8 sulla tutela della riservatezza. Ma come si vede con estrema facilità dalla Prassi, molto spesso si tratta di questioni identiche. Dallo studio della giurisprudenza può essere enucleato un principio di carattere generale, nel senso che i tre approcci tipicamente eseguiti dagli ordinamenti interni nei rapporti tra i diritti che oggi prendiamo in considerazione, cioè l'approccio più vicino alla libertà di espressione, l'approccio più vicino alla tutela della funzione giudiziaria, l'approccio più vicino alla tutela della riservatezza, ha una sua armonicità, cioè trovano compimento questi tre approcci in una giurisprudenza originale che in ultima analisi, lo vedremo meglio tra un po', può essere però caratterizzata dal fatto che nella visione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo l'articolo 10, e quindi il principio della libertà di informazione che questo codifica, è uno dei principi fondamentali, fondamentali, non soltanto nel testo convenzionale, ma in generale per la visione della Corte di una società democratica. Il pilasso della società democratica, dice la Corte, è l'accesso più facile possibile alle informazioni, in quanto il cittadino informato è un cittadino che meglio esercita gli altri diritti costituzionalmente garantiti. Quindi la Corte vede il diritto all'informazione come un diritto, per così dire, che anticipa il corretto esercizio di altre libertà pure riconosciute dalla Costituzione, e la cui maggiore tutela è di per sé una garanzia di migliore tutela anche delle altre libertà. E allora, quali sono le situazioni in cui l'articolo 6, per cominciare, può essere presa in considerazione in questo contesto? La prima è quella relativa alla equità del processo e alla diffusione di notizie sul processo. Qui si può fare riferimento a due situazioni diverse. Una prima situazione che riguarda la divulgazione di notizie da parte delle autorità giudiziarie, autorità di polizia, che si occupano di un processo. Da questo punto di vista l'idea di fondo è quella per cui nell'opinione della Corte la diffusione di notizie nel corso di un processo può di per sé risultare pregiudizievole per il diritto dell'accusato a un processo equo. Ma questo principio di carattere generale deve necessariamente essere declinato in ragione delle varie situazioni che possono presentarsi dinanzi ai giudici. ad esempio il caso delle dichiarazioni pubbliche ufficiali sul processo. Ci fu un caso alla fine degli anni 90, un caso Buscemi contro Italia, in cui un privato si lamentava del fatto che il presidente di un tribunale, di un grosso tribunale in Italia, aveva fornito delle notizie precise sul suo processo relativo all'affidamento dei figli in risposta a un articolo che questo signor Buscemi aveva pubblicato su un giornale e che invece criticava in maniera aspra le modalità con cui quel tribunale risolveva queste delicate questioni. Il presidente del tribunale risponde a questa provocazione facendo espressi riferimenti al caso del signor Buscemi, prima ancora che il suo collegio prendesse una decisione sul punto. Portata all'attenzione della Corte Europea dei Diritti e l'uomo, questa causa ha comportato l'accertamento della violazione dell'articolo 6 in ragione del fatto che i pubblici ufficiali e quindi anche poi in conseguenza le pubblicazioni sulla stampa di queste notizie devono esercitare un grado molto elevato di cautela, di consapevolezza per quanto concerne la diffusione di notizie precise su un processo su cui devono ancora prendere posizione. È chiaro che il processo non sarà più equo imparziale laddove il soggetto che sta per decidere su quella particolare fattispecie ha preventivamente preso posizione negativa. L'altra questione invece è quella che concerne le campagne di stampa da parte di mezzi di informazione indipendenti nei confronti di un determinato processo. Da questo punto di vista è particolarmente significativa sempre per parlare di casi italiani la sentenza Craxi contro Italia chiamiamola Craxi 2 perché ci sono varie sentenze che riguardano quel caso in cui il ricorrente anzi evidentemente la vedova del ricorrente si lamentava della iniquità del processo subito dall'accusato in ragione della violenta virulenta campagna di stampa che a suo modo di dire si era realizzata in Italia nel corso del processo. Qui la posizione della Corte Europea di Diritti dell'Uomo è negativa nel senso che la Corte ritiene che una pur violenta campagna di stampa non possa di per sé rendere iniquo il processo che si svolge dinanzi agli organi giudiziari nazionali. E facendo leva innanzitutto sul fatto che l'incidenza negativa di questa campagna di stampa sulla equità del processo non deve essere rappresentata in termini soggettivi ovviamente ma il ricorrente deve fornire il più possibile degli elementi oggettivi che portino alla Corte a sostenere che ci sia stata in effetti questa influenza negativa. Secondo elemento a cui la Corte dà una particolare rilevanza ma non soltanto in questo contesto come è noto è quello relativo alla qualifica del soggetto accusato ed anche del soggetto che giudica. Il soggetto accusato nel senso che qualora si tratti di persone coinvolte nella vita politica nazionale di pubblici ufficiali che rivestano una responsabilità particolarmente rilevante nella vita politica nazionale allora il livello di critica deve essere necessariamente molto alto. Quindi la gradazione del livello di critica diverge a seconda del soggetto coinvolto. Dal secondo punto di vista vale anche la qualifica del soggetto che giudica. Nel senso che nell'opinione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo qualora il giudicante sia un organo giudiziario chiamiamolo professionale togato allora è più difficile dimostrare che queste persone siano condizionabili da una campagna di stampa. Diverso il caso e ce ne sono di esempio in questa direzione qualora invece il processo di cui si discute vede come protagonisti dal punto di vista dell'organo giudicante anche dei giudici non togati. E allora in questo caso dice la Corte è più facile anche se ovviamente non così semplice è più facile sostenere che ci si possa essere stata un'influenza da parte di una campagna di stampa unidirezionale sulla decisione in merito a quel caso. Seconda questione è quella relativa alla pubblicità del processo e accesso alle sale d'udienza. Su questo l'articolo 6 dà delle informazioni particolarmente dettagliate perché oltre a richiedere che il processo sia pubblico nella prima parte del primo comma nelle frasi successive dello stesso comma indica quali motivazioni possono essere adotte per evitare l'accesso della stampa alle sale d'udienza termine ovviamente poi interpretato in maniera molto ampia inteso come accesso della stampa al processo in generale e qui quello che emerge dalla giurisprudenza è un tentativo di armonizzare due diverse esigenze che entrambe si ritengono inserite qualificate e quindi protette nel testo dell'articolo 6 l'esigenza della trasparenza del processo trasparenza del processo che non serve soltanto a evitare quello che la corte chiama giustizia segreta a tutela dell'individuo sottoposto al procedimento penale ma che serve anche a dare all'esterno quindi al pubblico in generale una informazione necessaria su come la giustizia viene amministrata quindi l'informazione sul processo e quindi le eventuali regole che limitano l'accesso della stampa deve essere qualificata nel testo della convenzione europea facendo riferimento a queste due esigenze che non necessariamente convergono evidentemente questo è un interesse pubblico a conoscere i dati di un determinato processo che confligge con l'interesse privato a spegnere riflettori su quella determinata situazione nella giurisprudenza della corte europea di diritti dell'uomo l'approccio è molto casistico e si valuta si ponderano nel singolo caso le due esigenze cercando di trovarne un'armonizzazione fino ad arrivare al punto di dire esempio nella sentenza DNA contro Belgio nel 95 che non è nelle disponibilità del soggetto accusato decidere se ci possa essere o meno informazioni su quel processo è una valutazione che il giudice deve compiere che deve essere rimessa al giudice non può esserci un divieto di carattere generale deve essere rimessa al giudice che valutando le situazioni del caso può decidere questo è un approccio molto anglosassero può decidere se su quel determinato processo ci debba essere un'informazione l'accesso della stampa o meno la terza questione che emerge dall'articolo 6 e che riguarda ancora il problema della divulgazione e notizia del processo concerne questa volta la presunzione di innocenza quale codificata nel secondo paragrafo dell'articolo 6 si stiamo sostanzialmente sulla stessa linea perché anche qui si tratta di valutare la correttezza del procedimento per quanto concerne la divulgazione di notizie e quindi la possibilità di influenzare i soggetti che giudicano sul processo in base alle informazioni diffuse ci fu un caso anche questo alla fine degli anni 90 il caso Alainet de Ribemont contro Francia in cui si discuteva di dichiarazioni in conferenza stampa da parte del ministro della giustizia in Francia e di ufficiali di polizia che senza mezzi termini e senza alcun dubbio attribuivano a un determinato soggetto un reato gravissimo un reato di omicidio poi si scopre che alla fine del processo quel soggetto viene assolto qui la questione è stata impostata dal ricorrente quindi alla Corte Europea dei Diretti dell'uomo in base al secondo paragrafo dell'articolo 6 cioè la incidenza che la divulgazione del processo può avere sulla presunzione di innocenza e in quel caso la Corte ha deciso nel senso di accogliere il ricorso quindi di conanare la Francia per il comportamento assunto dai suoi organi amministrativi e giudiziari che in base a un arresto avevano già presentato questa persona come sicuramente colpevole per l'articolo 10 della libertà di espressione anche qui se volessimo dare anche un quadro incompleto della posizione della Corte avremo bisogno di molto più tempo di quello che invece oggi posso sfruttare però in linea di principio avevo già anticipato l'importanza basilare che la Corte attribuisce al principio della libertà di espressione nelle varie sottocategorie in cui questo principio viene declinato nel testo dell'articolo 10 per quanto concerne le informazioni sul processo sin dalla sentenza Sunday Times negli anni 70 la Corte Europea di Dittoria dell'uomo sostiene che la stampa deve svolgere il suo dovere di informare il pubblico sulle vicende processuali nella maniera più ampia possibile e le eccezioni che pure l'articolo 10 contiene rispetto al diritto di informare debbano essere intese in maniera più restrittiva possibile molto velocemente dovendo indicare alcuni casi significativi potrei far riferimento alla sentenza Dupuis sentenza francese in cui si discuteva della pubblicazione di un libro da parte dei giornalisti che conteneva una serie di informazioni tratte da un fascicolo processuale in particolare trascrizione di intercettazione telefoniche evidentemente ottenute in maniera non corretta secondo la disciplina processuale in vigore in quel momento in Francia il caso era particolarmente eclatante perché si trattava di un sistema di intercettazioni che le altissime autorità politiche francesi avevano messo in piedi nei confronti di un numero molto elevato di persone nella pubblicazione di questo libro si dava conto dei risultati di questa inchiesta prima evidentemente che la sentenza fosse pronunciata la Corte Europea di Diritti dell'Uomo ha ritenuto che la legislazione francese e quindi la condanna definitiva che era stata inflitta ai giornalisti colpevoli di aver violato le regole del codice di procedura penale era una ingerenza della libertà di informazione un'ingerenza di per sé legittima in quanto finalizzata a garantire la presunzione di innocenza e la tutela dell'autorità dell'indipendenza del potere giudiziario però ha ritenuto che questo pur legittimo scopo fosse invocato in un contesto in cui non fosse necessaria l'ingerenza stessa in una società democratica in ragione del fatto che la materia di cui si trattava in questo libro era una materia particolarmente sensibile dal punto di vista di interesse pubblico all'informazione e la qualità nuovamente delle persone coinvolte giustificava un esercizio il più possibile ampio del diritto di informare quindi nella visione della corte dei diritti dell'uomo almeno in questo contesto poi bisogna sempre contestualizzare la libertà di informazione prevale senza altro sulla segretezza delle informazioni che sono state nel frattempo divulgate in altri casi la soluzione è diversa in altri casi in cui non veniva in gioco una vicenda così eclatante per l'opinione pubblica sempre nell'operare questo bilanciamento tra interessi coinvolti la corte invece ha deciso in maniera opposta ha deciso che la divulgazione di quelle notizie in assenza di un interesse qualificato del pubblico a essere informato su quella vicenda è senza altro una violazione dell'articolo dell'articolo non è senza altro una violazione dell'articolo 10 nel senso che le misure adottate allo Stato non possono essere contestate in quanto in violazione della libertà di informazione un altro interessante filone giurisprudenziale concerne la divulgazione di dati riguardanti la identità delle persone accusate di un reato qui la corte sembra riconoscere agli stati a parte della convenzione un margine di apprezzamento come si dice più ampio nel senso di accettare che esistano negli ordinamenti nazionali degli approcci a volte completamente divergenti significativo ad esempio la sentenza Egeland contro Norvegia dell'anno scorso in cui si poneva il problema della correttezza del comportamento di un editore che aveva pubblicato delle foto di una persona nel momento in cui questa subito dopo aver sentito dalla corte una pronuncia di condanna per un reato particolarmente grave e quindi le fotografie ritraevano questa persona in uno stato di particolare disperazione e angoscia conseguente alla pronuncia di questa sentenza svolte evidentemente tutti i passi procedurali nazionali il caso arriva alla corte europea dei diritti dell'uomo la corte sostiene che ci fosse stata una violazione del diritto alla protezione di questi dati se volete particolarmente delicate significativi della persona cioè protezione di una debolezza manifestata dal soggetto in questione al momento della pronuncia della sentenza e quindi il fatto che quella pubblicazione fosse stata vietata dall'autorità norvegese non è stata considerata una violazione dell'articolo 10 e quindi si accetta che ci possano essere queste limitazioni e infine il problema della tutela delle fonti giornalistiche anche qui la giurisprudenza della corte è particolarmente ricca poi codificata come vi ho detto nella raccomandazione numero 7 del 2000 volendo citare alcuni casi significativi in un filone giurisprudenziale che parte anche questa volta da lontano con il caso Goodwin contro Regno Unito segnalo le sentenze Tillac del 2004 e la sentenza recentissima Sonoma del 2010 nella sentenza Tillac veniva a rilevo il comportamento delle autorità belghe che avevano sottoposto a prequisizione il domicilio e l'ufficio di un giornalista a Bruxelles un giornalista di un quotidiano tedesco ritenuto colpevole di aver divulgato notizie riservate riguardanti il comportamento di un organismo dell'Unione Europea l'Olaf che è un organismo che si occupa della lotta alle frodi perché avrebbe divulgato appunto dei dati riservati non ancora di dominio pubblico arrivata davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in questo caso la Corte ha ritenuto che ci fosse stata senza altro una violazione della libertà di espressione a parte del Belgio in ragione del fatto che la protezione delle fonti dice la Corte è uno dei principi fondamentali che deve reggere la libertà di informare il giornalista non ha l'obbligo di divulgare le sue fonti per la sua credibilità e quindi per poter svolgere in maniera il più possibile efficace il compito di rendere noti al pubblico dati di interesse generale quindi ogni ingerenza sul diritto del giornalista a non rendere pubbliche le sue fonti è un'ingerenza gravissima nella visione della Corte e quindi in quel caso ho ritenuto che vi fosse stata senza altro una violazione dell'articolo 10 in sostanza la stessa soluzione è stata ribadita più di recente nel caso Sonoma contro contro l'Olanda qui il problema era ancora più complicato perché ha dovuto al fatto che un editore e quindi i giornalisti che lavorano con questi editori era stato accusato in Olanda per non aver consegnato alle autorità giudiziarie una serie di foto ottenute con la promessa nei confronti della fonte di non divulgarle di non divulgare appunto l'origine di queste foto dalle quali emergeva secondo le autorità emergeva dei dati indispensabili per la repressione di un reato di rirapina in sostanza alcuni giornalisti avevano avuto accesso ad una gara illegale automobilistica che si svolgeva in Olanda potendo fotografare questo evento con la promessa nei confronti degli organizzatori di non divulgare l'origine di quelle foto e non divulgare appunto chi fossero gli organizzatori sostanzialmente l'autorità giudiziaria sosteneva che grazie a quelle foto si poteva individuare riconoscere l'autore di un altro reato l'autore di una rapina perché quella macchina era stata probabilmente usata per una rapina e quindi aveva chiesto ai giornalisti e all'editore del quotidiano in questione di mettere a disposizione queste informazioni fino al punto di arrestare e di tenere in stato di privazione della libertà personale l'editore di questo giornale la Corte Europea di Diritti dell'Uomo dopo una prima pronuncia nella Camera negativa nei confronti del ricorrente e quindi la pronuncia in cui si giustificava l'intervento dell'autorità londesi in sede di secondo grado davanti alla Grande Camera ribalta la soluzione precedente e ritiene che sia stata senz'altro una violazione dell'articolo 10 il fatto di non aver sottoposto ad un giudice la questione della correttezza del comportamento dell'autorità di aver consentito che il giudizio relativo alla legittimazione o meno per l'autorità di polizia di ottenere quelle informazioni fosse sottoposto esclusivamente a quello che la Corte chiama parte del processo cioè il pubblico ministero quindi qui la questione riguardava esclusivamente la disciplina processuale e quindi la qualifica dei soggetti intervenuti per questo tipo di questo tipo di misure di restrizione della libertà personale per concludere temo di essere andato anche oltre per concludere oltre a raccomandare la lettura di quelle due raccomandazioni di cui prima parlavo che in sostanza contengono una codificazione precisa dei principi di cui fino a parlato anche di altri ovviamente si può anche tentare di dare una valutazione di carattere generale per quanto si tratti di una valutazione di per sé rischiosa chiamiamola così ma quello che probabilmente emerge dalla giurisprudenza della corte europea è un modello il più possibile trasparente e plurale di società la giurisprudenza della corte europea è diretti e l'uomo pone l'accento nei rapporti della stampa e la autorità giudiziaria all'esigenza di consentire il più possibile l'accesso della stampa e quindi dell'opinione pubblica nei confronti della quale la stampa è intesa come tramite dell'informazione relativa ai processi e quindi vede la corte i momenti di chiusura che pure sono consentiti alla stampa dell'accesso all'informazione sul processo come eventi assolutamente eccezionali e che possono trovare legittimazione in questo contesto soltanto se finalizzati alla protezione dei soggetti in una posizione più particolare debolezza sono considerate ugualmente eccezionali le circostanze che possono per considerare legittime perché è necessaria in una società democratica le limitazioni al diritto all'informazione ai sensi del secondo come l'articolo 10 quello che consente di non dare notizie sul processo e quindi di escludere l'accesso alla stampa in quanto il momento indispensabile in cui il pubblico riesce a ottenere una consapevole nozione di ciò che avviene nel funzionamento della giustizia quindi soltanto laddove l'esercizio della libertà di informazione non è funzionale rispetto a queste esigenze di carattere generale allora la ponderazione degli interessi in gioco può comportare una giustificata elezione del diritto all'informazione ma il modello che la corte ha in mente è un modello che attribuisce i principi da cui sono partito alla libertà di informazione il ruolo di pilastro di una società democratica in assenza del quale anche l'esercizio degli altri diritti non potrebbe essere consapevolmente effettuato vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti 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 grazie a tutti